e ben trovati con questo breve video vediamo come aggiungere l'attività forum all'interno di un corso moodle bene come tutte le attività per essere inserite all'interno all'interno di un corso moodle bisogna cliccare sul pulsante attiva modifica che normalmente è in alto a sinistra questa posizione in realtà dipende dal tipo di template che abbiamo a disposizione un template attuale è un template abbastanza standard per cui diciamo che normalmente il pulsante si trova in questa posizione clicchiamo su questo pulsante dobbiamo anche dire che stiamo effettuando questa operazione con la versione moodle 2.3 ad oggi è l'ultima versione rilasciata è la versione 2.4 e le modalità di inserimento di attività o di risorse identica bene a questo punto vediamo che la pagina principale è stata popolata tutta una serie di piccole icone che servono per effettuare delle modifiche o degli inserimenti in particolare vediamo che compare anche un link aggiunge un'attività o di una risorsa allora adesso clicchiamo su questo link nel modulo test e moduli aggiuntivi che sarebbe il luogo dove vogliamo inserire il nostro forum clicchiamo su questo pulsante e apparirà una finestra con tutte le attività e tutte le risorse disponibili per essere inserite clicchiamo sul forum mappare una descrizione sul questo tipo di attività e sul pulsante aggiungi bene a questo punto comparirà una finestra una schermata più che una finestra di impostazione del nostro forum allora innanzitutto dobbiamo dare un nome al forum il nome è assolutamente libero adesso noi scriveremo forum di discussione ma avremmo potuto chiamarlo in qualsiasi altro modo possiamo anzi dobbiamo perché un campo obbligatorio essendo l'asterisco rosso e inserire una descrizione di questo forum scriviamo spazio per la discussione degli argomenti del corso avremmo anche qui potuto scrivere qualsiasi altra cosa il tipo di forum utilizzeremo il forum standard per uso generale che è il forum in cui sono ammesse discussioni in modo libero in realtà esistono anche altre possibilità di forum questo in realtà quello che sto per dire vale per qualsiasi funzione o attività di moodle è sempre presente un tastino con il punto interrogativo dove appare una guida in cui vengono date le spiegazioni in base alla funzione che si sta utilizzando in particolare qui troveremo la descrizione degli altri tipi di forum possibili possiamo cliccare su questo segno di spunta per visualizzare la descrizione nella home la descrizione sarebbe quello che abbiamo scritto di introduzione al forum possiamo scegliere se la modalità di sottoscrizione è facoltativa, obbligatoria, automatica o disabilitata se noi la mettiamo obbligatoria tutti i corsisti saranno automaticamente iscritti a questo forum il che vuol dire che riceveranno le mail di notifica secondo le impostazioni del proprio profilo possiamo scegliere di abilitare o disabilitare l'evidenziazione dei messaggi non letti normalmente è bene abilitarle in modo che il corsista nella home page vede subito se ci sono nuovi interventi nel forum o non ci sono possiamo anche qui stabilire la dimensione massima degli allegati la dimensione massima in realtà è 64 MB che è quella che viene in questo caso supportata dal server che ospita il sito quindi questo valore 64 MB in realtà è variabile possiamo chiaramente dare dei limiti minori, viene consigliato 500K proprio per non sovraccaricare il server e lasciamo 500K possiamo anche stabilire quanti allegati poter inserire fino alla versione 1.9 in realtà l'allegato poteva essere soltanto 1 qui ci viene proposto 9 allegati che sono su molti possiamo mettere tranquillamente 3 che è un numero più che sufficiente possiamo poi stabilire se abilitare la funzione RSS quindi la funzione dei feed per questo tipo di forum in modo che con qualsiasi lettore RSS possiamo essere cioè possiamo l'utente può essere diciamo così avvertito dell'inserimento di nuovi messaggi attiviamola per gli interventi con un numero massimo di 3 interventi possiamo anche diciamo così stabilire una soglia massima di interventi nel nostro caso possiamo tranquillamente non metterlo e possiamo anche eventualmente se sono state impostate delle categorie di valutazione scegliere quale categoria di valutazione utilizzare in questo caso diciamo così lasciamo perdere lo stesso discorso vale per le valutazioni abbiamo anche qui delle impostazioni comuni per il discorso dei gruppi nel caso in cui ci sono dei gruppi potremmo tranquillamente abilitare questo forum per un particolare gruppo e permettere agli altri gruppi di vederlo o non vederlo altra funzione importante che è stata diciamo così introdotta con l'ultima versione di Moodle è il completamento delle attività questa in realtà questa funzione vale per tutte le attività con delle piccole differenze qui possiamo tranquillamente decidere di non tracciare questa attività di permettere agli studenti di spuntare manualmente questa attività quando viene svolta oppure di far fare questa operazione al sistema secondo le condizioni che possiamo impostare sotto in particolare sono lo studente deve visualizzare l'attività per essere considerata completa deve ricevere una valutazione nel caso in cui l'abbiamo messo deve effettuare almeno un certo numero di discussioni o di interventi potremmo stabilire tre interventi al terzo intervento che viene fatto automaticamente il forum viene considerato come un'attività svolta e iniziare un numero di discussioni o avere un certo numero di risposte possiamo anche stabilire una data per il completamento dell'attività entro un certo giorno previsto adesso noi diciamo di mettiamo che gli studenti possono spuntare manualmente l'attività per indicarla come completata bene, ricontrolliamo tutte le nostre impostazioni a questo punto salviamo e torniamo al corso terminiamo la modifica il pulsante si trova dove prima c'era attiva modifica e vediamo che nel nostro modulo test moduli aggiuntivi è stato aggiunto un nuovo link e forum di discussione se noi clicchiamo su questo accediamo al nostro forum che attualmente non presenta nessun argomento di discussione ma è presente il pulsante per aggiungere argomenti di discussione è chiaro che un forum di questo genere gli argomenti di discussione possono essere aggiunti da chiunque quindi sia dal docente che dagli studenti grazie e alla prossima occasione grazie a tutti